Il ponte d'Irpin potrebbe restare così com'è, in rovina, per ricordare gli ucraini morti a causa dell'invasione russa. Intanto, nelle zone dove sono cessati i combattimenti, lentamente si tenta di dare una parvenza di normalità. In uno degli ultimi messaggi, il presidente Zelensky ha ringraziato gli Stati Uniti. Le ringrazio il presidente Joe Biden per aver immediatamente firmato il pacchetto di sostegno da 40 miliardi di dollari per l'Ucraina, approvato al Congresso. Questo è un contributo storico alla protezione della libertà in Europa. Le truppe russe sorvegliano la centrale idroelettrica di Khakova, sul fiume Dnepr. Secondo i filo russi, precisamente per il responsabile dell'amministrazione civile, i russi hanno protetto la centrale dai sabotaggi. La situazione nel Lombas è difficile, come nei giorni precedenti l'esercito russo tenta di attaccare Sloviansk e Severodonetsk. Le forze armate ucraine resistono bloccando i piani offensivi russi. E' un altro contributo concreto per farci avvicinare al giorno tanto atteso per il quale lottiamo, quello della vittoria, spiega il presidente Zelensky. Intanto qualcuno riesce a tornare a Kharkiv dopo la battaglia per la città. Noi anziani vogliamo tornare alle nostre case, ma potremmo andarcene di nuovo se riprendono i combattimenti. Tuttavia ci sono molte famiglie con bambini piccoli, ci sono appartamenti che ospitavano tante persone, che non hanno un posto dove tornare. Per loro il ritorno è molto più difficile.